B. Possibilmente scriverla in italiano, C. Scriverla nel migliore minuto e 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 di questo ne vado io, però comunque c'è una punta di Dio. B. Io facevo un capo, parlava con mia madre, lui mi manda chiaramente se è un uomo, perché ai tempi che non c'era, hai matrimonio, ti ricordi tutto, il rapporto con la Dio. B. Vado appunto a dire che l'incontro di oggi venga fuori qualcosa di costruttivo sia per quanto riguarda la professione del giornalista che per quanto concerne proprio la Valle del Mirno in sé come zona, come territorio, che va sempre valorizzato e che va sempre portato avanti e dal punto di vista giornalista...